GF VIP7, ex vipona contro Edoardo Tavassi, usato parole forti, però è ancora lì. Eleonore Ferruzzi è stata una delle vipone più discusse che hanno preso parte all'attuale edizione del GF VIP7, che sta per volgere al termine. Proprio la Ferruzzi è stata ospite di Turchese Baracchi, nel suo programma radiofonico Turchesando. Dove ha parlato della sua esperienza nelle reality e non solo, partendo proprio dall'uscita dal GF. Poi la Ferruzzi ha rivelato chi avrebbe voluto che vincesse a reality, alla luce del fatto che i viponi rimasti non sono di suo gradimento. Mentre per quanto riguarda Daniele Dal Moro, Orana Marzoli e la pace ritrovata con l'ex tronista, ha dichiarato. Nel corso dell'intervista poi la Ferruzzi ha spiegato quali rapporti si porterà dalla casa nella vita reale ed è tornata a parlare di Daniele. L'ex vipona invece non ha speso delle belle parole per Edoardo Tavassi per via delle parole forti che ha usato ultimamente nei confronti di Micolin Corvaia. Infine Elenoire ha detto la sua suoriana, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzone e Giaele De Donà. Qui l'intervista a Elenoire. Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà.